Bene ragazzi, post partita di Nemo Kiv Lazio, 3-0, un ottimo esordio per la squadra di Baroni che ha fatto una buona partita. Abbiamo iniziato bene la partita, subito in vantaggio con Dià che è stato migliore in campo, oggi grande partita del senegalese, ha fatto quello che doveva fare, un attaccante, segnare, colladare il gioco, limare, collimare il gioco con la squadra e l'ha fatto in più riprese, in più occasioni, nel primo tempo e anche nel secondo tempo. Un giocatore incredibilmente forte, di una qualità importante che mancava la Lazio e oggi ha messo prima punto nel suo ruolo naturale, quello che ha fatto con Villareale e con la Svernitana per due anni e mezzo e abbiamo visto i risultati, perché ha fatto una partita eccezionale su tutti i punti di vista. Poi la Lazio comunque passi in vantaggio e dopo il collo del vantaggio comincia un po' a abbassarsi un pochino troppo per i miei gusti, ha cominciato a subire un po' di rinporto dalla parte di Ramachie, che più fortuna non ha mai preso la porta, abbiamo neanche trovato un po' dell'informissima oggi in questa partita e poi per fortuna Lazio entra in scena Delebasciro con una grande palla di Vesino, la rivista di Ramachie è completamente messa male, alta, lascia un buco centrale, Delebasciro lo prende tutto e fa un gol importante, un gol importante, gran partita di Delebasciro che comunque è un 2000, è un giocatore giovane, deve crescere tanto, si deve ancora molto segrezzare in qualità soprattutto, però ha una grandissima forza fisica e velocità e ha fatto una buona partita. Bisogna anche considerare l'avversario che ha affrontato la Lazio, la Lazio è molto più forte di questo Dinamo Kiev, soprattutto la Lazio B è scesa in campo oggi, Lazio B e quindi un'altra cosa molto positiva per questa vittoria, per questa partita. Poi la Lazio dopo un minuto fa il 3-0 con una grandissima azione, Rovella, Vesino, Di A, Delebasciro in mezzo, Di A fa un gran gol, ma lì si perde completamente la marca d'ortezione del Dinamo Kiev, non mi ricordo quel nome, però poco importa, fa un grande gol il 3-0, Di A ha fatto una partita eccezionale, doppietta giusta per lui. Poi al secondo tempo a Lazio, rispetto al primo tempo, concede molto meno, memoria anche del vantaggio di 3-0, ha gestito con calma la partita e si è visto, ecco, questo è un dato statistico importante perché la prima partita, prima, diciamo la partita in cui a Lazio non subisce i gol, quindi Cliccic, primo Cliccic in stagione, era importante mantenere la porta in regolata in Europa League, partire senza subire gol, perché ora l'Europa League è un girone uni, quindi la differenza di reti conta molto più rispetto agli altri anni. Poi la Lazio, comunque, ci si esce la partita, ha un'occasione con Pedro, altra palla eccezionale di Di A, che è una palla perfetta per Pedro, che purtroppo non segna, memoria di campanella della portiera, che la devi sul palo, e poi Cliccic non riesce a mettere la rete per fare il 4-0. L'unica nota stonante di cui questa partita, purtroppo, è Tijani Noslin, ragazzi, Noslin ha fatto una cosa, io sono rimasto bocca aperta, perché comunque, come fai a fare quella cosa? Stai sul 3-0, stai con un uomo in più, memoria di espulsione quel cane del giocatore di Namokiev, mi dissocio da questo aggettivo che ho detto, però il rosso c'era, Noslin, perché fai quel gesto sul 3-0? Non ha proprio senso, non ha avuto senso fare quella cosa che ha fatto Noslin, non capisco. Questo penso è il momento più basso di Noslin quella Lazio, speriamo che non perderemo normalmente il giocatore, perché ci serve, comunque la Lazio ha investito troppi soldi per questo giocatore, 18 minuti, era un totale se scattano molti bonus, quindi bisogna riprendere Noslin per i capelli, comunque, ragazzi, è una cosa che non può più, non si può permettere Noslin, già sta giocando male, quei pochi minuti li devi sfruttare al massimo e oggi li ha buttati, letteralmente, per una cavolata enorme, poca esperienza, sì, poca modalità, sì, però sono cose che non devi fare in Serie A nella Europa League, non può proprio permettere di fare la Lazio, perché non siamo qua per una Noslin, mi dico io bene, ma non siamo per una. La Lazio poi fa un'ottima partita e devo dire una cosa, grande partita di Luca Pellegrini, perché Luca Pellegrini, la prima partita ha fatto in campionato stanno titolare in Europa League, non ha rimpianto Nuno Tavares, l'avversario è modesto, per l'amor di Dio, però ha fatto una buona partita in fase offensiva e anche in fase difensiva, bene anche Marusic a tratti, meglio il suo tempo che nel primo tempo, bene Romagnoli e Ghila, ottimo per Rovetel, benissimo Rovella e Visino hanno fatto una grande partita di entrambi, c'è una, bene il primo tempo può scoppiare nel secondo tempo, Pedro ottima partita, Dio migliore in campo, Dio Pascino molto bene, poi Gambi, Saxe, bene, entrano molto bene in partire Saxe al posto dello scoppiato, c'è una. Detto questo ci vediamo nel post partita di Torino-Lazio domenica prossima, sarà una partita molto importante perché abbiamo perso la Frentina in maniera meritata e bisogna riprendere il nostro passo in campionato, comunque le freni sono positive e importanti. Tu questo è sempre con Salazio, dai Lazio, dai Telebaciru, ti amo!